Buonasera, sono Adalgisio Pirozzi, immunologo, infestivologo, astrattologo, asterologo dell'Università della Sapienza di Roma. Sono ad invitarvi a tenervi alle seguenti disposizioni. È stata dichiarata zona rossa da Campovodice Maranola all'Ascatiello Castellone. Mi raccomando, in queste zone ci si può baciare in bocca con la lingua, ma non ci si può dare la mano. Attenzione, questo è il comunicante numero uno di Adalgisio Pirozzi.